Ernesto Torregrossa, domani una partita amichevole per il Trapani contro la San Cataldese, si torna nella tua città natale, che emozioni proverai? Sì, andiamo a fare amichevole a San Cataldo, sono molto contento di questo perché andare e tornare nella mia città, giocare nella mia città dove manco calcisticamente da nove anni è una cosa emozionante. Ci saranno anche i tuoi amici o familiari a vedere questa partita? Sì, sì, certamente ci sono tutti i miei amici, c'è la mia famiglia, ci sarà la mia sorellina, quindi sono contento. Invece questo precampionato con il Trapani, sei al Trapani da quasi un mese, come lo giudichi fin qui? Penso che stiamo lavorando bene, fra di noi stiamo incominciando a conoscerci meglio e penso che ci sarà un affiatamento incredibile fra la squadra per fare un buonissimo campionato. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, adesso la testa è al campionato, c'è grande fermento per sapere quale sarà il calendario che verrà stilato questo pomeriggio, come pensi possa affrontare questo campionato del Trapani? Penso che, ripeto, il gruppo si sta sempre di più unendo per cercare di affrontare già dalla prima partita nel miglior modo possibile. Penso che noi guarderemo partita dopo partita e affronteremo tutte le squadre a viso aperto. Se conoscevi già Trapani, cosa ti sei fatto di questa città e della società vista anche da vicino? No, Trapani la conoscevo solo di passaggio, non ero mai stato nella città e come squadra l'avevo affrontato solo da avversario. Mi sono fatto un buonissimo, ho avuto una buonissima impressione sia della città che della società e sono contento di essere qua, fra i dirigenti che mi hanno voluto, i tifosi sono calorosi e la città che è bellissima.